in questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto questa mattina al mercatino delle pulci garbagnate milanese qui alle porte di milano era una splendida giornata c'era il sole faceva caldo ed era veramente un piacere camminare tra le bancherelle degli espositori e devo dire che ho fatto anche dei discreti acquisti ho acquistato 10 automobiline per un totale di 9 euro quindi il prezzo più che economico e molte majorette serie 200 anche in discrete condizioni e anche qualche matchbox veramente antica e interessante comunque vediamole nel dettaglio cominciamo con questa majorette ford sierra numero 272 prodotta tra il 1984 e il 1990 e questo è il first release prodotto tra l'84 e l'85 non in perfette condizioni ma neanche male comunque è una macchinina metallo su metallo e ne basta la pena acquistarla un'altra majorette questa penso che non l'avessi è l'RS turbo scusate l'r5 turbo numero 255 prodotta tra il 1981 e il 1987 questa è la versione rilasciata tra l'83 e l'84 quindi come quella precedente un'altra automobilina che ha quasi 40 anni e questa non è perfetta ma come l'altra è in discrete condizioni altra majorette serie 200 la Porsche 924 numero 247 questa è stata prodotta tra il 1978 e il 1985 questa rossa è la versione l'ultima versione prodotta tra il 1982 e il 1985 questa è in buone condizioni a parte qualche piccolo graffio però anche questa automobilina di 40 anni fa che però si è mantenuta molto bene passiamo adesso ad una Hot Wheels la Dixie Challenger prodotta tra il 1981 e il 1986 e questo è il first release del 1981 non in buone condizioni ha perso molta vernice ha perso quasi tutte le decal e anche la cromatura della base che è in plastica però è una blackwall che non avevo e quindi insomma per un euro ne è valsa la pena questa è un'altra majorette è il furgon la versione camping car numero 259 prodotta tra il 1982 e il 1986 e questo il first release del 1982 questo è un modellino che credo che non avevo tra la mia collezione di majorette ed è anche in buone condizioni soprattutto è presente questo meccanismo della porta in plastica posteriore che spesso salta via comunque è ancora in buono stato si può anche pensare di restaurarlo andiamo avanti con questa altra majorette l'onda accord numero 219 prodotta tra l'84 e l'88 questa è la versione dell'85 e l'86 questa gialla non è male come modello è molto solido molto pesante qua hanno attaccato del pongo la base però vabbè si può staccare e anche questo si può pensare di restaurarlo passiamo a una matchbox la citroen cx questa è stata prodotta tra il 79 e l'85 questo con questo colore azzurro metallizzato è la versione del first release la versione del 79 81 allora la vernice è abbastanza screpolata insomma non è perfetta è piena di difetti le ruote non sono in condizioni eccezionali però in realtà il modello è molto solido e trasparenti sono graffiati ma sono presenti questo meccanismo di apertura della porta che credo sia in plastica è presente e funzionante c'è anche il gancio anche qua hanno attaccato del pongo sulla base però comunque questo è un modellino che si può sicuramente restaurare adesso cominciamo con le matchbox un po più antiche questo è il dayler bus numero 74 questo è stato prodotto tra il 1966 e il 1971 e questo è l'ultimo modello rilasciato tra il 70 e il 71 quindi questo è più vecchio di me c'è più di 50 anni le versioni precedenti avevano le real wheel queste sono diciamo quelle ruote che hanno rappresentato un po la transizione tra le real wheel e le super fast quindi diciamo delle super fast molto sottili però il modellino è veramente molto bello si può sicuramente restaurare tra l'altro anche le ruote sono in buone condizioni solo la vernice è screpolata non è un problema la cosa interessante è il rivetto che tiene insieme il la base con il corpo del modellino l'hanno posizionato qui e sarà veramente un'impresa romperlo però vabbè comunque un modellino veramente molto interessante questa è un'altra maggioretta è la mercedes 350 SL numero 213 prodotta tra il 1975 e il 1980 e questa è la versione del 1976 quindi una maggiorette sicuramente dannata vintage quasi 50 anni 48 anni va bene la vernice è tutta da rifare il trasparente è molto graffiato però per il resto è assolutamente solida direi che è veramente un bellissimo modellino anche qua hanno attaccato del pongo probabilmente venivano tutti dalla stessa collezione queste macchine e sicuramente questo sarà uno dei prossimi restauri che farò ecco veniamo all'ultimo modello che ho lasciato per ultimo secondo me questo è il modello più interessante si tratta di una matchbox il modello è il bp autotanker m1 ed è stato prodotto tra il 1961 e il 1965 se non erro e ne hanno prodotto una sola versione quindi questo potrebbe essere stato rilasciato sul mercato indifferentemente tra il 61 e il 65 comunque parliamo di praticamente 60 anni fa e l'ho pagato un euro quindi diciamo che è stato sicuramente un affare anche se le condizioni non sono impeccabili anzi tutt'altro la vernice è tutta screpolata però il modello è pesantissimo è lungo è estremamente solido però se vediamo le ruote hanno pochissima ruggine e praticamente non manca niente c'è non c'è nessun pezzo rotto nessun pezzo mancante anche i trasparenti sono scuri ma sono solo graffiati si possono benissimo restaurare secondo me questo è il modellino più interessante che ho trovato se non altro per l'età vi ringrazio di aver assistito questo video e vi aspetto per i prossimi